Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus. Molti giornali oggi aprono con la vicenda dei presunti finanziamenti da parte del Venezuela al Movimento 5 Stelle. Una notizia che è stata diffusa da un giornale spagnolo. Il reporter che ha seguito la questione sottolinea di aver ricevuto questi documenti via posta e di aver fatto tutte le verifiche del caso. Ci sono però molti dubbi sullo stesso documento. Adesso poi lo vedremo. C'è addirittura una smentita del consul venezuelano che avrebbe fatto da tramite questi sordi e sarebbero arrivati a Gianroberto Casaleggio e il Movimento 5 Stelle che parla di fake news. Una questione che irrompe in un momento delicato per il Movimento 5 Stelle in cui c'è uno scontro duro sulla questione della leadership con Di Battista da una parte e Grillo dall'altra ma si parla anche di una riorganizzazione del Movimento 5 Stelle. Poi si parla sui giornali di oggi degli stati generali in corso per tutta la settimana a Roma a Villa Panfili. Ieri è stata la giornata in cui Vittorio Colau ha presentato il documento messo appunto dalla sua task force ma in realtà i riflettori sono stati tutti puntati sul confronto con le parti sociali e in particolare sull'attacco di Bonomi di Confindustria al governo. Una Confindustria che si aspettava di più con appunto un piano che la stessa Confindustria presenterà visto che a suo avviso appunto il governo deve ancora farlo. Ma ci sono comunque buone notizie sul fronte della cassa integrazione. Allora partiamo dal Corriere della Sera. Vedete il titolo principale giallo sui soldi. Ai 5 Stelle. Maduro inviò 3,5 milioni. Dubbi dei servizi. Casaleggio non infangate mio padre. Documento top secret pubblicato dal quotidiano spagnolo. Avese dura l'opposizione. Salvini sono vicini al leader sanguinari. Ancora sulla ripartenza agli stati generali. Conte un mese di cassa integrazione è stata prorogata di 4 settimane. E gli industriali che attaccano con Bonomi appunto che dice si tratta soltanto di annunci di spalla. La notizia della scomparsa di Giorello. La mia lotta al mare oscuro. L'addio al filosofo libero. Era appena guarito dal Covid-19. Purtroppo il suo cuore non ce l'ha fatta e si è spento a 75 anni. A centropagina questa notizia ci racconta la storia di questa attivista in Egitto arrestata per aver sventolato l'arcobaleno LGBT ad un concerto. Si è suicidata dopo essere stata appunto torturata per una bandiera. Si era rifugiata all'estero ma tutto questo non è bastato a sfuggire da queste esperienze terribili. Che ha vissuto ha lasciato un biglietto in cui ha scritto appunto i motivi del suo gesto e ha detto perdonatemi non resisto più. Di spalla la storia della donna che accusa l'ex assessore Paolo Massari di violenza, dice io nel bunker dell'ex assessore, ero paralizzata. L'apertura della Repubblica, anche questa vedete è dedicata ai 5 Stelle, subito il direttorio per salvare il governo, guida collegiale del movimento, l'obiettivo evitare scissioni e crisi a luglio sul Messi, il PD teme la paralisi giallo sui 3,5 milioni che Maduro avrebbe dato a Casaleggio, stati generali, il freddo addio di Colau. Cassa integrazione proroga di quattro settimane e Conte che dice va riformata, detto è un meccanismo comunque farraginoso. E ancora c'è la storia appunto dei 5 Stelle, Venezuela di Diba tra petrolio, populismo e molta fantasia. In taglio alto si parla di Covid-19, di quello che sta succedendo in Cina, lì dove tutto in realtà è iniziato, oltre 100 contagi a Pechino, la Cina ha paura della seconda ondata. E poi di spalla negli Stati Uniti c'è una svolta sui diritti dei lavoratori LGBT perché d'ora in poi sarà vietato licenziare. E ancora vi volevo segnalare sempre dalla prima pagina della Repubblica, l'ultimo passo per la giustizia su Giulio Reggeni a firma di Carlo Bonini. E ancora il dietro fronte dell'Umbria sull'aborto perché non sarà più possibile farlo in dei hospital per le donne, questa appunto la decisione della governatrice. Andiamo alla stampa, Cassi integrati e precari, ecco il piano del governo. Conte, il PD, sì all'appello della stampa, seggi elettorali fuori dalle scuole, si stanno cercando appunto delle soluzioni. E poi ancora la proroga della Cassa Integrazione, Palazzo Chigi, che dice che nessuno sarà licenziato. Si parla naturalmente della bufera sui 5 Stelle e delle accuse da parte della Spagna, ma volevo segnalarvi dalla stampa di oggi un'intervista a Matteo Renzi, che dice il Premier si preoccupi del lavoro e non dei sondaggi. E poi un'altra intervista all'economista della Task Force di Colau, Giovannini, che dice adesso un patto sociale che agevoli i giovani. Ancora a centro pagina le storie di queste due donne, non l'abbiamo già vista, quella di Sara, l'attivista egiziana, Maria e Sara, il coraggio eversivo delle donne. E l'altra è una giornalista filippina che rischia sei anni di carcere, la reporter che fa tremare Duterte. Andiamo a vedere anche l'apertura del messaggero, eccola qui, dedicata anche questa ai 5 Stelle, le ombre sui soldi di Maduro, i dubbi sull'autenticità e Grillo che vuole riprendersi il movimento. A centro pagina questa fotografia ci ricorda che domani inizieranno gli esami di maturità. Ed è una corsa contro il tempo però per trovare tutti i prof. Notte prima della maturità Covid con l'incubo dei vuoti di commissione, perché ancora appunto ci sono dei posti che vanno sistemati. La Cigo che è la proroga di quattro settimane e adesso la riforma. E poi c'è Ilva, il braccio di ferro tra Governo e Mittal sul piano contestato. In taglio basso, ispezione dei NAS, la falla nei controlli sui malati in arrivo. Al San Raffaele di Roma, contagi da un paziente. Ci fermiamo per qualche minuto e riprendiamo subito dopo con l'Era Segna Stampa. Bentornati in studio, proseguiamo con la Rassegna Stampa di Omnibus. Siamo al sole 24 ore, apertura dedicata al decreto CIG. Quattro settimane in più, altri 50 miliardi di deficit entro il 2021. E' stato varato ieri sera con il decreto che consente alle aziende che hanno esaurito le 14 settimane di cassa Covid di chiedere subito ulteriori quattro settimane previste senza attendere settembre. Scongiurato il buco in agosto, la misura sarà estesa per chi ha già esaurito il plafon. L'Istat l'ha già chiesta, il 70%. Le imprese troppi ritardi. Conte che dice appunto un sistema faragginoso e dunque da rivedere. Poi c'è la questione della Confindustria. Bonomi, Confindustria pronta a presentare il piano di rilancio. Il premier disponibile ad ascoltare le proposte del mondo dell'industria. Il presidente Carlo Bonomi presenterà questo piano domani agli stati generali a Villa Panfili. Benvenga, Confindustria ha raccolto l'invito del governo nel modo più giusto, ha commentato il premier Conte. E dunque appunto questa è la posizione di Confindustria. C'è un'intervista oggi sul sole 24 ore a Vittorio Colao. L'Italia ripartirà solo con impresa e lavoro. Il fatto quotidiano, Grillo, basta o decido tutto io? Ultimo avvertimento, non polemizza solo con Diba. Il fondatore vuole pieno sostegno a Conte e gestione collegiale del Movimento 5 Stelle, se no ritorno capo. Il foglio, da cui vi segnalo due articoli oltre i soldi. Come diavolo ha fatto l'Italia non diventare Venezuela d'Europa, firma di Claudio Cerasa. E poi gli stati generali delle tasse, ora di cogliere la grande sfida dei margini fiscali impensabili. Parla Ruffini, il direttore dell'Agenzia dell'Entrata, di ordinare le norme esistenti, eliminare quelle inutili. Basta terrorizzare, dice appunto Ruffini. Pagare meno, pagare tutti. Apertura del giornale, eccola qui. Sospette tangenti, 5 Stelle, adios. Dalla Spagna, da Chavez, Valigia con 3,5 milioni a casa legge. Grillini, falsità, ma i legami con il regime venezuelano restano. Di Battista rompe con Grillo. Non è d'accordo, amen. E anche Conte molla i 5 Stelle. Non penso di iscrivermi. Libero. Strapotere dei bulli. La democrazia è diventata un optional. I giornali governanti approfittano delle disgrazie per fare la voce grossa senza risolvere i problemi. Conte promette, quando lascerò Palazzo Chigi, tornerò a fare l'avvocato. Inizi subito. Il manifesto, dedicato appunto agli stati generali, piano piano il titolo principale. E poi Grillo, Dibba e Tregua armata. Apertura del tempo, il furbetto della mascherina, titola questa mattina il tempo. Nuovi documenti inchiodano Palazzo Chigi. Il 25 febbraio, per l'ennesima volta, le regioni chiesero al governo di comprare dispositivi per medici e infermieri. Il 26 li comprarono per Conte e i suoi, solo il 2 marzo, per gli altri. La verità. Dopo Dibba, bomba da Caracas, i grillini ora vedono le stelle. Sulla rivelazione del quotidiano appunto spagnolo, con il movimento che smentisce, minaccia, querele, è l'autore dello scoop che conferma tutto. Apertura dell'avvenire, si riapre la cassa, appunto sulla proroga della cassa integrazione per quattro settimane. L'Italia, quasi libera dal Covid, resta un caso la Lombardia. E poi la maturità al via, i temi immaginari. L'ultimo quotidiano di cui vediamo le aperture è il mattino, la falsa partenza delle aziende, moda, auto e turismo, i settori più in difficoltà che preferiscono la cassa integrazione. E poi a Napoli c'è stata la protesta degli infermieri, ci chiamano supereroi, ma siamo soltanto dei precari. Andiamo a vedere le pagine interne dei quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera per parlare appunto di questo documento che è stato pubblicato da questo giornale spagnolo. Dal timbro ai tempi, i dubbi degli 007 italiani, forse è un attacco agli interessi nazionali, verifiche sul report e sulla possibile manina. Sono i dettagli ad alimentare il sospetto che il documento pubblicato dal quotidiano spagnolo possa essere falso. Questo non vuol dire che il finanziamento venezuelano 3 milioni e mezzo a Movimento 5 Stelle, in particolare a Gianroberto Casaleggio nel 2010, non ci sia stato. Ma l'analisi del report lascia dubbi sulla sua attendibilità. Alimenta numerosi interrogativi sia sulla tempistica sia sulle modalità di diffusione. Il sospetto che possa trattarsi di un attacco per screditare i grillini in un momento già molto delicato e soprattutto il governo italiano, visto che si tratta di una delle forze politiche che lo sostengono, non è affatto fugato. Proprio per questo l'intelligence si è attivata subito dopo la pubblicazione dell'articolo per ricostruire ogni passaggio, individuare i protagonisti e scoprire se possono esserci stati altri passaggi dei soldi e quindi valutare appunto quello che è successo. Gli analisti rilevano più di un'anomalia nella confezione del documento. Alcuni esperti citati dall'Agenzia Nova segnalano tre errori. Il primo riguarda l'intestazione del Ministero della Defensa da cui manca del potere popolare. Dubbi anche sul timbro con il cavallo bianco che viene notato dovrebbe correre verso sinistra invece girato verso destra. Infine la data, un timbro blu con l'abbreviazione del mese di luglio per la ricezione da parte dell'archivio generale di una firma in nero con il giorno 5 e l'anno 2010 che sembrano aggiunti. Sono dei dettagli ma naturalmente si sta studiando proprio su questi. E poi c'è la voce di alcuni dei protagonisti di questa vicenda. Intanto il console venezuelano a Milano che dice io con la borsa piena di soldi un falso costruito dall'ultradestra e lui dice appunto come se poi fosse facile mandare soldi in questo modo prendere un aereo e uscire da Malpensa bisogna essere dei pazzi significherebbe burlarsi delle autorità italiane. E poi dice in Venezuela tra novembre e dicembre andremo alle elezioni niente succede in modo casuale, le opposizioni fasciste di base a Madrid non perdonano la vittoria di Maduro. E poi c'è la voce del giornalista che ha appunto realizzato questo articolo. I documenti arrivati per posta dice ma sono un esperto e ho verificato. Seguo la pista che dal Venezuela porta a Movimento 5 Stelle da almeno tre mesi. Ho capito subito che stavo per cacciarmi in un vespaio quando c'è in ballo. La politica è sempre così. Scrivo cose di interesse pubblico, non fango politico, dei conti svizzeri di proprietà dei funzionali del regime di Maduro, condanne per diffamazione mai avuta nessuna. E dunque appunto il giornale stesso ha confermato il contenuto di questo articolo e veridicità dei documenti sulla quale si basa. Dicevamo appunto che questa vicenda irrompe in un momento delicato per il Movimento 5 Stelle in cui si parla di leadership e di riorganizzazione. Lo scontro è tra Di Battista e Grillo. Siamo sempre sul Corriere della Sera. Grillo è contro Di Me, Amen. Di Battista tira dritto e agita il Movimento 5 Stelle tra i deputati. C'è chi lo difende. Il garante esagera. È Di Maio che dice questa non è la priorità. L'ex deputato continua a posare mine contro il governo. Oltre al MES il conflitto di interessi. E volevo farvi vedere un'altra, eccola qui, c'è l'intervista a Barbara Lezzi che dice sorpresa da Beppe, spero non sia mal consigliato. Parliamo un attimo della questione degli stati generali. Siamo sempre sul Corriere della Sera. L'attacco di Monomi, l'addio di Colau. Il presidente di Confindustria contro la politica degli annunci. Governo incalzato anche da sinistra con Landini della CGL che dice proroga fino a fine anno del divieto di licenziare. Volevo segnalarvi, eccola qui, un'intervista alla Furlan della CISL sulla questione naturalmente economica che dice servirebbe un nuovo patto sociale come con Ciampi nel 1993. Le urgenze, produzione e occupazione, ora c'è bisogno di tutti. Governo, sindacati e opposizione. Nessuno si tira indietro. È il momento della responsabilità. Ma volevo anche segnalarvi le parole di Conte che dice benvenga al piano delle imprese, cigo un mese in più e poi dice se tornassi al mio lavoro di avvocato sarei contento. Questa è appunto la sua posizione rispetto a quello che sta accadendo nel Movimento 5 Stelle. Vi volevo segnalare un'intervista sulla stampa a Matteo Renzi. Eccola qui. La lista Conte, bassa sondaggi. Ora pensiamo ai posti di lavoro. Il leader di Italia Viva dice se il caso Chavez fosse vero sarebbe un alto tradimento. Il brand 5 Stelle è usurato perché su molte questioni hanno fatto capriole indimenticabili. E sulla questione che riguarda Conte gli viene chiesto Lei e Conte siete politicamente diversissimi ma insistete sullo stesso elettorato potenziale. Magari un giorno fate una lista insieme. Quel giorno e adesso stiamo collaborando venendo da esperienze diverse. Sicuramente nel corso di questa crisi avrei fatto alcune scelte diverse. Ma la politica è far fronte alla realtà. Io preferisco che Conte sia presidente del Consiglio e non lo sia Salvini. Con la Lega avremmo avuto un governo sovranista in Europa e brasiliano sul Covid. Per il futuro remoto invece non vedo grandi chance di lavoro comune. Questa appunto è la posizione di Matteo Renzi. Dici sono patriota, faccio il tifo perché questa storia dei 5 Stelle non sia vera e voglio credere alle smentite. Le rivelazioni ti dicono quanto sei simpatico. i dati Istat, quanto sei capace di incidere davvero nel Paese. Andiamo sulla Repubblica perché un'altra delle questioni appunto su cui si giocherà anche questa ipotetica scissione semmai ci sarà ovviamente insomma è soltanto un'ipotesi del Movimento 5 Stelle è sulla questione del MES. L'ombra di una crisi lunga a luglio ci racconta il Movimento 5 Stelle per i vertici grillini se continua così tra un mese l'esecutivo non c'è più Conte glissa sul fondo salva stati ora non c'è necessità ma dovremmo aggiornarci e sull'ipotesi di un suo partito avverte e appunto dice come ha già detto abbiamo visto su altri quotidiani io un lavoro ce l'ho. Ancora Zingaretti che teme la paralisi al governo serve velocità il segretario del PD rispetto il travaglio ma è l'ora della concretezza per idem se il Premier fa il suo partito non può più guidare la coalizione. Quindi vedete questa questione che agita molto la maggioranza. La mossa dei capi grillini subito un direttorio per evitare la tempesta questa è l'ipotesi un caminetto di saggio un intervento di grillo per arrivare ad una guida collegiale ma di Battista sfida il garante io vado avanti. E poi ancora l'ultima cosa che volevo farvi vedere sulle riaperture il piano per noi l'Italia noi ce l'abbiamo ed appunto sulla questione della confindustria in Nardella che dice se il Governo agisca subito le nostre città rischiano il disastro. È tutto per la rassegna stampa ed è il momento di Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo. Buongiorno Paolo. Buongiorno, grazie Emanuela. Questa è la situazione di questa mattina. Sappiamo che siamo in una situazione di circolazione di aria instabile che significa che nel pomeriggio ci sono i fenomeni più intensi e più frequenti. Questo non significa che la mattina sia tutto sereno perché come vedete al nord, in parte al centro un po' di nuvole ci sono piogge poche nord-est qualcosa sul versante adriatico ma si presenteranno anche prima dello scadere delle ore 14 perché il calcolo è fatto fino alle 14 e infatti le piogge previste per questa prima fascia dalle 2 di questa notte alle 14 cominciano già a essere presenti anche al centro-sud e vedete che al nord cominciano a comparire queste macchie gialle che sono quelle collegate a possibili fenomeni più intensi anche di tipo temporalesco. Vediamo la seconda parte della giornata quella in cui sicuramente i fenomeni sono un po' più presenti vediamo la carta successiva e vedete che le macchie gialle sono presenti al sud peninsulare perché sulle isole continua questa fase di estraneità all'instabilità al centro al nord vedete sono piccole macchie e sono proprio sparse però come dire che è difficile ci sono zone in cui non ci possono essere questi fenomeni c'è una zona di schiarite che prende parte del Veneto parte della Lombardia e l'Emilia-Romagna vediamo tutta la giornata di domani ancora una volta è presente questa instabilità abbastanza diciamo più frequente al nord al centro e al sud qualche fenomeno ma si comincia già a vedere una specie di attenuazione di questa instabilità infatti nella giornata di giovedì troviamo al centro e al sud poche piogge a parte una piccola zona sul Gargano che potrebbe dare qualche fenomeno e invece la parte soprattutto centro orientale del nord in cui ancora questi fenomeni nel pomeriggio saranno ben presenti quindi di stabilità si fa ancora sentire le minime di questa mattina molto diciamo simili a quelle di ieri non ci sono grandi variazioni i valori sono molto vicini alle medie sono pressoché normali in qualche caso leggermente al di sotto e chiudo con lo stato dei mari che ancora una volta sono un po' più tranquilli ma come vedete le zone celesti di mare quasi calmo si riducono quindi da poco mossi siamo mossi i bacini orientali mossi e localmente molto mossi gli altri soprattutto vedete il tirreno sud orientale lo stretto di Sicilia insomma un pochino di movimento c'è d'altra parte in questa situazione non siamo al centro di un'alta pressione in cui mancano i venti e i mari sono tranquilli di movimento di nuvole ce n'è e tutto è collegato se volete ci vediamo subito prima delle 7.55 adesso pubblicità poi la prima edizione del nostro telegiornale con Emanuele Agarulli da più tardi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti